Bella ragazzi e benvenuti a questa recensione a caldo dell'episodio 76 di Boruto intanto ragazzi se mi vedete così, beh, mi sono fatto il colore ai capelli però non ho chiesto like, non ho fatto 13 video su questa cosa non sono bravo a portare video su youtube, ma infatti non sono uno youtuber meglio così comunque ragazzi, allora vi voglio chiedere scusa se in questa settimana e mezzo comunque non ho pubblicato niente sui social, non ho neanche fatto altri video su youtube ma è un periodo veramente brutto, uno dei tanti ma comunque è un periodo veramente brutto, quindi non avevo neanche voglia di registrare vi porto Boruto perché so che vi piace, piace a me registrarlo e quello non mancherà mai, o almeno che insomma non succede veramente qualcosa di gravissimo e niente, episodio 76 e iniziamo titolo dell'episodio, provocare l'ira del drago allora non è un titolo clickbait, il titolo è questo va bene, cominciamo la puntata anzi, ricordiamo quello che era successo nella puntata scorsa visto che è passato un po' di tempo ovvero Boruto, Sarada e la squadra di Shikadai vanno insieme a cercare aiuto per trovare Mitsuki quindi gli viene data una missione devono recuperare una scaglia di Garuda che sarebbe un serpente immenso loro stanno andando quindi a cercare questo Garuda nella nebbia, tutto un casino si vede, qui è una cosa bellissima ragazzi si vede Boruto che salta non l'avevano visto prima si vede Boruto che salta e c'è una statua di un serpente immensa che gli si palesa davanti e lui si spaventa e così via, ce ne sono anche altre di statue cosa succede poi? si vede tranquillamente Ciocio attaccata a una cosa rossa dietro ah, è un muro ma dove mai hai visto un muro a scaglie rosso? cioè, dimmi dov'è che hai visto un muro a scaglie rosso nella tua vita vabbè, indovinate chi era questo muro a scaglie rosso? chiaramente era Garuda si chiama Garuda vabbè, questo serpentone che chiaramente durante un combattimento questo è venuto, l'hanno raccontato ha perso un occhio quindi ci vede solo da una parte sola ha perso un occhio e questo cioè, questo serpente è veramente immenso ci vedeva steso apre la pupilla qui è la buona, chiaramente e la pupilla è tipo molto più grande di Boruto quindi potete solo immaginare quanto sia grande questo serpente chiaramente ragazzi il serpente attacca il bello è che Shikadai prova col controllo dell'ombra così, io mi immagino Shikadai un cosino così piccolo un serpente è una cosa immensa vai, ti controllo con l'ombra così e chiaramente il serpente senza problemi spacca il controllo dell'ombra perché è troppo potente poi, essendo anche troppo grande Shikadai non è ancora in grado di controllare cose così mentre il serpente ragazzi si muove alza un sacco di roba quindi un sacco di macerie e un tronco, una colonna una colonnina va addosso a Sarada Sarada viene buttata all'indietro è lì per terra che soffre per una colonna vabbè, soffre e chiaramente Garuda Garuda la vede e va per cercare di mangiarsela però in quel momento lì arriva un altro serpente blu che morde Garuda cioè non lo morde in testa lo morde tipo nella coda e Garuda si ferma cioè io mi immagino uno che sta per essere mangiato cioè no per essere mangiato per mangiare arriva uno ti morde tipo in un polpaccio e tu ti fermi cioè il boccone ha mettito l'in bocca e poi vedi cosa è successo ho notato una cosa ragazzi in quest'altro serpente adesso io non mi ricordo bene la storia ma quest'altro serpente questo serpente blu che ha morso per così dire Garuda non ha i denti non ha proprio i denti però non viene neanche accennata questa cosa in questo episodio passiamo ragazzi al villaggio della foglia dove Naruto e Shikamaru è arrivata a Moeji quindi è tornata Moeji gli dice che la squadra di Shikadai è andata con Boruto e si viene a sapere comunque ci rivelano che il ragazzo il ragazzo la guardia che è stata attaccata all'inizio da Mitsuki si sta per risvegliare ci fanno vedere che fuori dal reparto medico diciamo così c'è un ninja questo ninja si chiama Yurito e Sarada gli consegna un fascicolo da consegnare all'Okage lui glielo va a consegnare e torna nel suo posto lo vedevo molto contento nel senso di solito non danno di solito non danno così spazio a un personaggio di contorno però a questo personaggio un pochino più di spazio gli era andato ci arriveremo però torniamo dai nostri ragazzi che si sono diciamo nascosti dentro una grotta perché comunque era uno scontro tra un serpente blu e un serpente rosso e Garuda comunque è veramente una bestia e in quel momento dentro la grotta c'era una sorta di lago esce dall'acqua chiaramente il serpente blu che Sarada lo vede e chiaramente Sarada già ci stava pensando ma perché quel serpente blu mi ha praticamente salvato cioè ha morso Garuda mentre mi stava per mangiare e il serpente blu comincia a parlare e rileva non mi viene sta parola rileva rivela non mi viene regà ve lo giuro rivela a il gruppo che lui è il serpente di Sasuke questo serpente ragazzi si chiama Aoda e praticamente parla anche in maniera molto educata al gruppo e però il gruppo non vuole sentire ragioni praticamente il serpente si era anche proposto dire io vi accompagno fino al villaggio della foglia loro hanno detto no ci serve la scaglia ci serve la scaglia perché chiaramente poi gli raccontano anche la storia ci serve la scaglia per consegnarla questa persona che poi ci aiuta per trovare Mitsuki e il serpente alla fine li aiuta torniamo di nuovo al villaggio ragazzi e Naruto Shikadai e Tsunade non è Shikadai Shikamaru e Shikamaru stanno parlando e dicono beh forse Mitsuki è stato costretto da qualcuno adesso ragazzi passiamo però sempre al villaggio della foglia ma agli amici di Boruto e gli altri quindi c'è la capoclasse che non so perché ragazzi ma ma dato nella prima volta che l'hanno inquadrata l'avevano disegnata un po' male secondo me poi non solo lei c'era anche poi anche più avanti ve lo dico ma non era proprio bellissima come l'hanno disegnata in solito la disegnavano un po' meglio però forse è stata solo una mia impressione comunque parlano e dicono che anche loro vorrebbero fare qualcosa per aiutare i loro amici ma hanno la missione di badare al villaggio in poche parole che dicono questo torniamo ragazzi adesso nel reparto medico succede una cosa molto molto importante ovvero intanto Sakura decide guarda io vado a cambiare quindi prendo le sue cose per uscire e per andare a cambiarsi perché immagino che sia sudata ma le sue cose insomma va per cambiarsi e entra probabilmente esce Sakura nell'istante che esce Sakura entra una persona e questa persona è Yuriko Yurito ho dovuto leggere perché non me lo ricordavo Yurito quel ragazzo che ha portato il fascicolo al settimo Kage ed è lì che parla con l'assistente di Sakura parla in un attimo esce io l'ho visto poi non so se magari mi sono sbagliato io mentre usciva ha preso qualcosa da un vassoio ed è uscito e ha fatto la sua faccia come dire adesso in culo il villaggio ha fatto quella faccia lì e poi per adesso è finita questa storia parliamoci chiaro parliamoci chiaro ragazzi visto che nel villaggio non può entrare nessuno dopo tutto quello che è successo quindi è super protetto questa persona era già dentro mi immagino quindi è già dentro da un po' dentro il villaggio non si è accorto nessuno che questa persona è sospetta comunque questa persona fa qualcosa di un po' strano cioè è difficile che una persona non faccia niente fino a non è vero magari qualcuno non lo so ragazzi vi dico la verità non lo so però questa cosa sinceramente non mi piace abbiamo parlato di Sakura che stava andando a casa a cambiarsi esce diciamo dall'ospedale dalla struttura e incontra anzi incrocia Inata e anche qui come vi ho detto prima per la capoclasse Inata ha una faccia secondo me disegnata male sempre nelle prime inquadrature è degnata veramente male poi dopo un pochino migliore ma non lo so o c'aveva lo scazzo chi l'ha fatto non lo so vi dico la verità non mi ha convinto più di tanto cioè aveva una faccia come dire rido sono contenta sono triste sono così così non lo sa non sapeva neanche lei che faccia fare torniamo ragazzi di nuovo a vedere Boruta e la sua squadra insieme a Oda a Oda si chiama non mi ricordo al serpente blu che insieme organizzano un piano per cercare di rubare la scaglia da sotto il mento di Garuda allora cosa succede organizzano questo piano chiaramente riescono a immobilizzare Garuda ma come Ciocio diventa grande tutta grande e va ad affrontare Garuda chiaramente Garuda gli gira intorno e la stritola intanto gli altri non dico che fanno da esca ma comunque aiutano Ciocio ovvero Inojin crea degli uccelli che vanno addosso all'occhio buono di Garuda quindi non ci vede almeno non dovrebbe vederci e Shikadai lo blocca con l'ombra stavolta riesce a bloccarlo con l'ombra e Boruto cerca cioè si lancia per cercare di prendere di prendere la scaglia non ce la fa e si lancia Sarada però in quel momento Garuda si gira verso Ciocio cioè va verso Ciocio e gli spruzza un liquido qui nella spalla e quel liquido comincia a immobilizzare Ciocio ma come? la fa diventare di pietra e così ragazzi finisce la puntata Ciocio diventa di pietra maledetto e finisce la puntata che dire è tornata col botto? no non è successo niente di troppo emozionante vedremo quelle prossime io voglio sapere di Mitsuki non mi interessano queste cose di Garuda e degli altri serpenti me ne sbatto veramente voglio sapere di Mitsuki questo è quello che voglio sapere io ditemi voi come avete preso la puntata ditemi voi quello che pensate e niente ragazzi il video ve lo concludo qui se vi è piaciuto chiaramente un bel pollice in su se non vi è piaciuto chiaramente pollice in giù e bella presto ragazzi torneranno video magari due video a settimana adesso ancora no ma non so di preciso quando ricomincerò e niente poi riprenderanno anche le stream su Twitch se volete seguirmi ogni tanto farò delle streaming penso o il pomeriggio sul tardi oppure direttamente la sera bella ciao